Consigliere Calise, ho cinque minuti per il suo, però come vede non interrompiamo nessuno, prego. Grazie Presidente, ci sarebbe molto da dire sulla città metropolitana, io mi concentro su alcune osservazioni, più che altro per commentare quello che sta avvenendo e quello che avverrà nei prossimi anni, se questo ente andrà avanti. Prima considerazione, chi scrive le regole del gioco? È chiaro che noi abbiamo scelto, avete scelto un sistema elettorale, un sistema elettorale che porterà a un ente di secondo livello, questo in pratica cosa vuol dire? Uno, si crea un sistema elettorale disproporzionale, i grandi gruppi prendono tanto, i piccoli gruppi vengono annientati all'inglese. Molto più disproporzionale di un sistema maggioritario, perché questo viene già da un'altra elezione, quella dei comuni. Quindi si avvantaggiano i grandi gruppi e si annientano quelli piccoli, come diceva prima il consigliere Cappato, il Movimento 5 Stelle non riesce ad entrare, ma non è tanto questo un problema, noi abbiamo fatto politica prima di entrare nelle istituzioni e continueremo a farla anche da fuori. Il problema è che si tengono fuori i cittadini. L'articolo 1 della Costituzione dice che la sovranità appartiene al popolo. Quindi, prima osservazione. La legge del Rio e la città metropolitana infrange uno dei cardini degli enti locali, quello che è stato siglato nella Convenzione della Carta Europea delle Autonomie Locali, Strasburgo nel 1985, dice una cosa semplicissima. Gli enti locali vengono eletti direttamente. Punto. Questo non avverrà. Si tengono fuori i cittadini, ma soprattutto, qual è il cuore? Cos'è che si sta facendo? Un po' come in Senato, non si sta andando verso la partecipazione, ci si sta trincerando dietro le istituzioni, ci si sta chiudendo. Quindi, si avrà, prima di tutto, una fotografia, dato che l'elettorato è attivo, siamo noi consiglieri, di circa due anni e mezzo fa, se si fa la media delle elezioni dei comuni. Quindi, si va due anni e mezzo fa. Il Movimento 5 Stelle non esisteva, ma è solo uno dei casi. Io ne faccio parte, quindi non mi interessa questo. Tante liste civiche vengono tagliate fuori. Ma andiamo al cuore. Perché si sta facendo questa manovra? Cosa c'è? Qual è il vero contenuto? È semplice. Qui non sono le province a chiudere. Sono i comuni, i comuni piccoli a chiudere, con lo spostamento delle competenze in materia di appalti. La città metropolitana diventa la centrale unica di acquisto. Vuol dire che si toglie a tutti i piccoli comuni l'unico potere che avevano, cioè quello di gestire le opere e poter appaltare. Dal nostro punto di vista questo è il cuore. Questo è quello che toglierà e non darà maggior forza alle amministrazioni locali. Toglierà competenze, toglierà poteri, soprattutto ai piccoli comuni. Conterà Milano, punto. Quindi, io finisco il mio intervento ricordando un appello che hanno scritto i consiglieri di zona del Movimento 5 Stelle. Che è stato protocollato e presto riceverà sia l'assessore che il sindaco. Consiglieri di zona del Movimento 5 Stelle Milano sollecitano l'amministrazione di questa città a mantenere le promesse elettorali. Si volevano aumentare le autonomie e la centralità delle zone. Nei fatti la legge del Rio toglie poteri ai comuni. Con la creazione della città metropolitana, un organo di secondo livello, è assolutamente non democratico. Perché non democratico? Perché le elezioni di secondo grado mettono in crisi e non garantiscono l'uguaglianza e la segretezza del voto. Che toglierà ogni autonomia a tutti i comuni, a partire da quella di cui parlavo prima, della centrale unica appaltante. Sotto questa ottica è sbalorditivo constatare come i consigli di zona di Milano, che amministrano zone con una popolazione superiore a 150.000 abitanti, non abbiano avuto nessun ruolo in queste elezioni. Per noi consiglieri del Movimento 5 Stelle è indispensabile che gli amministratori siano scelti dai cittadini. Ma quello che ci chiediamo è che se già con la situazione attuale i consigli di zona sono raramente determinanti nelle scelte, io mi spingo un po' oltre a raramente determinanti. Per me sono dei banco ma per le associazioni, è l'unico loro compito, dato che costano più di quanto decidono nei loro bilanci. Lo saranno ancora meno con la nascita della città metropolitana, altro che decentramento. Sottolineiamo la nostra contarietà all'ente città metropolitana, che nasce in modalità antidemocratica e anticostituzionale. Ovviamente non siamo contro la sussidiarietà, i principi di buona amministrazione, la suddivisione razionale delle competenze e delle finanze. Ma questo non è la direzione. Quindi auspichiamo che il lavoro di creazione della municipalità non sia finalizzato solo a un'inutile creazione di poltrone, ma a un aumento delle autonomie più vicine ai cittadini, e vi incluse strumenti di democrazia diretta e strumenti di partecipazione. Come ho detto prima, non saremo all'interno di questo Consiglio metropolitano per le regole. Lo accettiamo, ovviamente le regole le avete scritte voi del gioco, ma come facevamo politica prima da fuori, continueremo a farlo adesso e ovviamente inizieremo con il fiato sul collo anche in questo nuovo ente. Grazie. Grazie, Consiglio Calise. La parola al Consiglio...